il centro-sinistra scelto e biancani le candidato sindaco ricci racconti i suoi dieci anni da sindaco e guarda alle europee latitante fa un incidente in autostrada arrestato dalla polizia a pesaro è tornata la ruota panoramica sport weekend di sfida d'alta quota per vl e vice pesaro una buona serata telespettatori di rossini tv e benvenuti questo nuovo appuntamento con rossini news telegiornale di oggi venerdì 15 marzo che apriamo parlando di politica perché la riunione di ieri sera interna al partito democratico ha partito la decisione che era nell'area da un paio di giorni sarà infatti andrea biancani le candidato a sindaco di centro-sinistra per la città di pesaro alle elezioni amministrative dell'otto e nove giugno ascoltiamo proprio i primi commenti di biancani all'indomani della decisione rispettate le previsioni della vigilia la cosiddetta riunione fra i tre saggi del partito democratico matteo ricci luca ceriscioli e giampiero bellucci e i tre nomi dem spendibili per le elezioni amministrative ha fatto convergere la decisione per la candidatura sindaco di centro-sinistra per la città di pesaro su andrea biancani il consigliere regionale la spunta sull'attuale vice sindaco daniele vimini e l'ex assessora sarah mengucci l'annuncio arrivato via social da tutti i diretti interessati poco prima della mezzanotte attende ora la ratifica pressoché scontata dell'assemblea del partito democratico e degli alleati di coalizione prevista lunedì sera ovviamente questa è una candidatura del partito democratico poi si tratterà anche di condividere ma da quello sono già comunque iniziati erano già stati fatti i primi incontri ma comunque è giusta la condivisione anche con tutti i gruppi che i partiti che sostengono questa coalizione ovviamente io sono molto soddisfatto essere arrivare solo ad essere candidato per il centro-sinistra per diventare sindaco della propria città è sicuramente una bella soddisfazione e sicuramente anche secondo me è frutto di un lavoro fatto in oltre vent'anni di attività dove ho sempre cercato di essere vicino a quelli che sono i problemi dei cittadini dando la mia disponibilità essendo presente occupandomi soprattutto di quelli che sono i problemi reali concreti delle persone cercando di trovare le soluzioni quando le soluzioni non c'erano cercando di trovare comunque la strada necessaria per individuarla una volta espletato il passaggio formale dell'assemblea da martedì partirà di fatto la campagna elettorale di biancani con la presentazione di un programma che eredita onori ed oneri della capitale della cultura alla quale aggiungere precise linee di intervento il tema legato al sociale il tema legato alle politiche educative il tema legato all'ambiente alla viabilità al fatto alla riconnessione più forte magari con i quartieri cercando di proporre anche progetti che possono riqualificare anche quei luoghi di aggregazione che nei quartieri ci sono di cui c'è sempre più bisogno campagna elettorale che significherà soprattutto sfida con il centro-destra che ha candidato Marco Lanzi. Mi auguro che sia un duello civile e almeno io caratterialmente non sono una persona conflittuale una persona che può che portata come dire a parlare male degli altri cercherò di parlare di quello che sono i nostri obiettivi con massimo rispetto per l'altra parte politica sapendo che dal giorno dopo comunque dopo dal 10 giugno dovremmo comunque lavorare insieme i rapporti personali sono importanti e quindi per riuscire a ottenere risultati importanti sicuramente più c'è condivisione con tutte le forze politiche meglio è. Se di duello si potrà parlare con Lanzi con Vimine e Sara Mengucci è stato piuttosto un pacifico rivaleggiare. Daniele ha fatto sicuramente un grandissimo lavoro in questo soprattutto in questi ultimi anni dove è riuscito insieme al sindaco Ricci a ottenere questo splendido risultato le elezioni sono praticamente a metà anno sarebbe anche sbagliato come di interrompere un percorso che già un assessore ha portato avanti quindi ritengo che Daniele qualora dovessimo vincere le elezioni potrà sicuramente far parte della squadra e continuarsi ad occupare di quello per cui questo bellissimo risultato che della città ha ottenuto come Sara Mengucci è sempre stata una persona ben voluta una persona che ha fatto bene negli ultimi anni quando ha fatto l'amministratrice però tutti dobbiamo correre ognuno sarà candidato e tutti insieme riusciremo a fare un bel risultato Ed ora ascoltiamo come è stata commentata la scelta di Andrea Biancani dalle segretarie del Partito Democratico Giampiero Bellucci e da Daniele Vimini chi a lungo è stato principale sfidante di Biancani in questa partita Per la candidatura a sindaco di Pesaro la spunta Andrea Biancani e per il Partito Democratico scegliere il consigliere regionale è stato il punto di convergenza di un proficuo lavoro di squadra partito da lontano frenato dall'ipotesi di terzo mandato a Matteo Ricci e che ora coinvolgerà Daniele Vimini e Sara Mengucci nelle possibili strategie amministrative che si profileranno in caso di vittoria dopo la chiamata alle urne di giugno Il percorso è stato lungo, c'è stato un ampio dibattito perché a un certo punto si erano ipotizzate le primarie diciamo che è prevalsa la linea di lavorare per individuare oltre a un candidato anche un percorso da fare politicamente e chiaramente rivendichiamo questa conclusione come lavoro di squadra in cui in qualche modo vengono messi i riferimenti un po' per l'azione che sarà l'azione futura che sarà amministrativa che oltre alla figura del candidato sindaco di Andrea Biancani prevede il contributo e il rafforzamento del lavoro fatto dal vice sindaco assessore alla cultura Vimini perché in questo contesto della capitale della cultura era giusto e doveroso dargli questo riconoscimento e mantenere questo investimento anche in vista dell'attuazione diciamo di questo anno e delle ricadute che avrà poi sul futuro Sono emersi diverse valutazioni nel corso di mesi, si è sempre tenuto un profilo molto costruttivo e anche teso a tenere un'unità del partito Il ruolo che in qualche modo si è ritagliato a Sara Mengucci con la sua candidatura ovviamente ha dato a noi una forza aggiuntiva rispetto al lavoro fatto nel campo del sociale perché in questo modo connotiamo ulteriormente il lavoro amministrativo sul welfare che in qualche modo Sara se ne fa portatrice e in qualche modo diamo uno spazio e un futuro anche alla figura femminile all'interno di questa squadra perché su questo tema credo che sono importanti i lavori che dobbiamo fare in futuro anche in termini di servizi, di scelte strategiche e scelte diciamo programmatiche Si è riconosciuti nella figura di Andrea Bancani come quella più adatta in questo momento storico a ricoprire questo ruolo e a affrontare questa campagna in cammino avanti che sarà una campagna breve ma intensa e che con la sua competenza, il suo entusiasmo e soprattutto l'entusiasmo di tutta una squadra potrà portare al migliore risultato e quindi dare anche una grossa continuità al lavoro importante che questi dieci anni di mandato hanno realizzato, anche gli obiettivi che hanno realizzato e anche come in tutti i casi naturalmente mettere anche un plus di freschezza, di novità e di idee che naturalmente a parte dal candidato sindaco e poi anche la coalizione potranno apportare E restando sempre in tema di politica, domani pomeriggio alle ore 17.30 il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sarà all'hotel Charlie per raccontare i suoi dieci anni da sindaco Lasciata la fascia tricolore dopo due mandati, Ricci ha dato disponibilità a candidarsi per le europee Una scelta appoggiata anche dal sindaco di Milano Beppe Sala presente ieri in Piazza delle Popolo per la prima dell'elezione magistrale di capitale della cultura Scelto Andrea Biancani come potenziale successore di Matteo Ricci per la coalizione di centrosinistra il primo cittadino di Pesaro è pronto a congedarsi dai suoi dieci anni da sindaco Dieci anni che saranno narrati nell'incontro fissato per domani, sabato 16 marzo alle 17.30 all'hotel Charlie Dopo due mandati da sindaco il futuro a breve termine di Matteo Ricci guarda alla candidatura all'elezione europee Una corsa sospinta anche dall'appoggio del sindaco di Milano Giuseppe Sala Ospite giovedì sera nella lusfera di Piazza del Popolo per il via al ciclo di incontri dell'elezione magistralis della capitale della cultura Sono qua ospite suo e quindi si potrebbe anche immaginare che non potrei dire altrimenti Ma in realtà lo conosco da tanti anni, credo che sia un politico molto apprezzato, localmente senz'altro lo è Ma lì basta vedere i voti che ha sempre preso, il consenso che ha Però si è via via imposto anche per la sua statura politica nazionale e a questo punto spero internazionale Non è una battaglia facile, è chiaro, ma io credo che lui abbia molte possibilità e quindi nel mio piccolo Se posso dare una mano a persone vicine a me politicamente, amiche, lo faccio Io ho dato la disponibilità diversi mesi fa, adesso devi scegliere la segretaria Sline Sto facendo il giro del centro Italia con il libro, sta andando molto bene È un libro che ovviamente avrei comunque presentato, però la gente che partecipa, il consenso che sta riscuotendo Mi galvanizza e mi dà anche una bella spinta per provarci Aspettiamo che verranno fatte le liste, poi decideremo a quel punto di andare avanti fino in fondo Io ho dato la mia disponibilità e adesso sarà il mio partito valutare se posso essere d'aiuto in questa partita così importante come quella dell'Europa Sul palco di Piazza del Popolo Sala ha tenuto un Alexio Magistralis dal titolo L'importanza della cultura per una città contemporanea e internazionale, il caso Milano Un argomento quanto mai cadenzato sul presente di Pesaro È chiaro che la cultura è anche uno strumento di coesione sociale Ma per il turismo è fondamentale sia per i locali ma molto molto anche per gli stranieri Ora in questo territorio stanno cominciando ad arrivare tanti stranieri Per rafforzare l'immagine e l'attrattività credo che la cultura sia la migliore cosa A Milano abbiamo avuto un'esperienza molto significativa che è partita un po' con l'Expo Quindi nel 2015 e spero che l'anno della cultura qui a Pesaro abbia lo stesso effetto per questo territorio Ringrazio Beppe Sala perché è il primo discorso che viene fatto, il primo speech che viene fatto sui temi della natura e della cultura Questo sarà un modo anche alla fine dell'anno per raccogliere tutti questi contributi E farli diventare in qualche modo un racconto della città stessa Anche un contributo quindi di innovazione culturale e politica grazie a questa città E lasciamo la politica e passiamo ora alla cronaca Nel pomeriggio di ieri un cittadino rumeno di 52 anni mentre percorreva l'autostrada fra i caselli di Pesaro e Fano Alla guida di un furgone è rimasto coinvolto in un incidente con autocisterna e un'autovettura Nessuno dei passeggeri coinvolti ha riportato lesioni Ma i successivi accertamenti effettuati dalla polizia stradale di Fano intervenuta per i rilievi Hanno evidenziato un ordine di carcerazione a suo carico Nel 2024 infatti il Tribunale di Roma aveva revocato il provvedimento di sospensione di una pena Ripristinando l'esecuzione dell'ordine di tre mesi mai notificato per irreperibilità del soggetto Conclusi i rilievi l'uomo è stato accompagnato presso il carcere di Villa Fastigi dove dovrà scontare ora la pena Quasi 10 milioni di utili e servizi sempre più radicati nel territorio E questo il bilancio d'esercizio dell'anno appena trascorso da parte della Banca di Pesaro Una banca che gode di ottima salute Una banca sempre più radicata nel territorio all'insegna di progetti sociali Al ristorante Polo Pasta e Pizza Banca di Pesaro ha tenuto oggi il tradizionale incontro conviviale con gli organi di informazione In cui illustrare i dati di un bilancio d'esercizio al termine di un'annata da utili importanti Che confermano un trend di crescita costante e di stabilità Un anno molto importante, un anno che ci ha permesso di conseguire un utile insperato Ovviamente la gran parte delle banche ha raggiunto questi risultati Purtroppo a discapio dei correntisti per l'aumento dei tassi Però quello che è importante per la Banca di Pesaro è che questo risultato non è determinato dall'aumento dei tassi Ma in minima parte, il resto è proprio sviluppo che la banca ha fatto Servizi che ha incrementato e quindi nuove aperture di conti correnti Vuol dire una banca che ha conquistato quote di mercato importanti nella città di Pesaro Al di là del risultato, un risultato importantissimo perché chiudiamo con circa 9 milioni e 8 di utili netto Al di là di questo comunque sono tutti gli indicatori di bilancio, quelli più importanti Videnziano la crescita e la stabilità dell'istituto Per quanto riguarda le voci principali si è stabilizzata, anzi è in incremento la raccolta diretta da clientela Anche la raccolta in diretta, quindi risparmio gestito, fondi e quant'altro Ma soprattutto grande soddisfazione per gli impieghi in cui siamo cresciuti in circa 3 punti percentuali Sia lato famiglie che lato imprese, quindi abbiamo sempre più questo riconoscimento da parte della città E del territorio in cui operiamo, che la banca c'è, la banca assiste Ma soprattutto continuiamo ad essere presenti con iniziative anche importanti Che necessita il territorio ma soprattutto perché ormai serve sempre di più un intervento anche sul sociale Visto anche le difficoltà che diverse persone e famiglie stanno incontrando E a Pesaro è tornata la ruota panoramica Oggi infatti si sta completando l'installazione dell'attrazione di 35 metri Che nel 2023 è rimasta vicino alla palla di pomodoro da luglio fino alle primo di novembre Esperimento riuscito visto che l'azienda Parisi, titolare della ruota panoramica, è già tornata a Pesaro nello stesso luogo Ma per un periodo più lungo anticipato già da questa metà di marzo La ruota infatti sarà messa in funzione già in questo fine settimana E la Confartigianato nazionale ha scelto Pesaro come sede della terza edizione della giornata della cultura artigiana Appuntamento dalle titolo Intelligenza artigiana che si terrà il 19 di marzo alle ore 17 al Teatro Rossini di Pesaro Vediamo Confartigianato si prepara a festeggiare la terza edizione della giornata della cultura artigiana In occasione di San Giuseppe Artigiano L'evento che si terrà a Pesaro per la capitale italiana della cultura 2024 E' in programma il 19 marzo al Teatro Rossini Il tema dell'evento che vedrà ospiti e influencer di fama nazionale non solo Sarà quello dell'intelligenza artigiana Valore per l'Italia Che osserverà con occhi esperti il mondo dell'intelligenza artificiale in relazione a quello dell'artigianato E' un onore ospitare a Pesaro l'evento nazionale del valore artigiano, dell'intelligenza artigiana Ormai da alcuni anni la Confederazione Nazionale di Confartigianato organizza in occasione della capitale della cultura un evento E quest'anno capita a Pesaro e per noi è veramente un grande onore ospitare questo evento Un evento che parlerà dell'etica dell'intelligenza artificiale, del valore delle imprese artigiane E come potranno gestire lo strumento per far sì che il valore dell'uomo, il valore del creare Possa non essere superato dallo strumento Quindi avremo dei relatori di assoluto valore Che potranno comunque illuminarci e darci e fornirci quelle che sono le linee guida per gestire il cambiamento Un cambiamento sempre molto complesso ma che tutti insieme potremo cercare di gestire e superare Per un miglioramento del nostro paese, del nostro territorio Per noi è un onore partecipare e avere un evento nazionale sul nostro territorio Sul quale come Confartigianato Ancuna Pesaro Urbino stiamo puntando tantissimo Dalla realizzazione della nuova sede con l'inaugurazione Essere partner della città Pesaro Capitale della Cultura 2024 Dall'aver preso parte a tutte le iniziative e essere partner anche della biosfera Dell'inaugurazione della biosfera E quindi questo sancesce un po' anche con l'obiettivo che abbiamo come Confartigianato Ancuna Pesaro Urbino Di essere sempre più in rete, fare sempre più rete con le imprese Le famiglie, quindi le persone e soprattutto gli enti sul territorio La nostra confederazione ha scelto la capitale italiana della cultura 2024 Proprio per sottolineare che noi imprenditori e artigiani siamo la cultura produttiva made in Italy Perché siamo profondamente radicati nelle nostre comunità Ma contemporaneamente conquistiamo il mondo con l'eccellenza dei nostri prodotti Perché esprimiamo talento, competenze e saperi antichi Che rappresentano la biodiversità dei territori italiani Il 19 marzo sarà l'occasione per ribadire che in questi tempi di grande incertezza C'è bisogno di cultura artigiana Per ricostruire un modello di sviluppo economico e sociale Sostenibile e a misura d'uomo E continuo il progetto 50x50 capitali al quadrato Mentre è in corso la settimana dedicata a Piobbico Da lunedì 18 marzo, riflettori puntati su San Costanzo Il titolo che abbiamo scelto è Il gusto della cultura, la cultura del gusto Questo titolo richiama in sé tutto quello che siamo pronti a mostrarvi a San Costanzo Colori, odori, sapori, ricette, folklore Per una settimana che vede oltre 30 iniziative organizzate in 7 giorni Abbiamo 7 rappresentazioni teatrali Tra cui concerti nella nostra bomboniera Al teatro della Concordia di San Costanzo 6 menù dialettali appositamente creati dai nostri ristoratori Presentazioni di libri, escursioni La poesia diffusa, le mostre d'arte La gara di lancio del formaggio a squadre Questa è una peculiarità tutta nostra Veramente tantissime iniziative per tutti i gusti Anche per i bambini, torna a andare per fiabe Ma sicuramente l'evento più importante di tutti Che è quello che racchiude quello che siamo È ritrovarsi sabato 23 marzo in Piazza Perticari Con la Sagra delle Sagre San Costanzo infatti è uno dei pochi comuni Che riesce ad avere un'organizzazione di feste sagre folcloristiche All'interno dell'anno Con una concentrazione molto importante Ben quattro feste Quindi in Piazza Perticari avremo La Polenta di San Costanzo La Crescia di Stacciola La Trippa di Cerasa Lo Stufato di Cinghiale E i dolci dei nostri pensionati Il tutto accompagnato dal gruppo caratteristico musicale La Matta di San Costanzo E dai canti propiziatori dei Pasquellanti Questa settimana non abbiamo cercato i fuochi d'artificio Ma abbiamo cercato di farvi vedere Quello che di meglio sappiamo già fare durante tutto l'anno E abbiamo l'ambizione di dire e di affermare Come scrisse Cesare Pavese Che un paese ci vuole Un programma veramente impressionante Non solo per il numero degli appuntamenti Per la qualità Ma per il trasporto Il senso di comunità Che si avverte nella costruzione del programma E anche per aver saputo toccare i tasti classici Diciamo della programmazione culturale Quindi dal libro al teatro Alla conferenza Alla mostra Ma anche tanti elementi di aggregazione Fino alla Sagra delle Sagre San Costanzo è una delle realtà Dal punto di vista agroalimentare E non gastronomico I più interessanti d'Italia Sicuramente della nostra regione Che l'ha saputo rendere meglio Con appuntamenti canonici Ma neanche tanto Anche qui originali All'interno dei ristoranti Ma anche tanti altri momenti originali Fino anche alla tradizione della gara Del lancio del formaggio Artisti, musicisti Come sentiamo in questo momento Sarà non solo una grande festa Ma anche delle grandi basi Messe per il futuro Perché tutte le iniziative Che sono pensate per questa settimana Come in realtà Il focus delle iniziative Anche del dossier Della Capitale della Cultura Non vogliono essere Di fuochi d'artificio Per quanto spettacolari Ma vogliono costituire Un grande fuoco olimpico Replicabile Che potrà continuare a ardere Nei mesi, negli anni prossimi Nei vari comuni Tutti assieme E dove verranno proposti E noi ti salutiamo tutti quanti La pace rinascente Tutti santi E continua la sinergia Tra Wunderkammer Orchestra E Università di Urbino Che in questo 2024 Coinvolgerà anche L'Università Politecnica delle Marche Con tre appuntamenti Con l'obiettivo di portare La musica d'arte Fuori dal suo contesto abituale Si comincia il 19 marzo Alle Teatro Sanzi di Urbino Con la prima esecuzione nazionale Dell'opera del compositore olandese Willem Jett The Telltale Heart E domani alle ore 16 Il PAC Performing Art Center di Peser Ospita dall'idea Alla realizzazione scenica Secondo appuntamento Dei mestieri delle teatro Un ciclo di incontri Sulle professionalità Delle mondo dello spettacolo Dopo il partecipato incontro Di apertura con Paola Galassi Dedicato al rapporto Tra moda e costume Per lo spettacolo A fare gli onori di casa Sarà questa volta Giampiero Solari Fondatore delle PAC Che nonché regista e autore Con una carriera di grande prestigio Tra teatro e televisione E ritorno sulle palcosceniche Quasi 96 anni Per l'attore Carlo Pagnini Che con Simona Teballi Sarà protagonista Del prologo dello spettacolo Del teatro accademia Dedicato ad un amico Previsto alle teatro sperimentali di Pesero Domenica alle ore 17 e 30 E concludiamo con lo sport Con un ricco weekend di partite Che vedrà Italservice VL, Vis e Pesero Rugby Tutte impegnate in appuntamenti casalinghi Comincia a breve l'Italservice Che alle 20 e 30 Ospiterà Cosenza Alle pala Megabox Cercando la terza vittoria consecutiva Che varrebbe il consolidamento Del piazzamento playoff Domenica alle 14 e 30 La Pesero Rugby Ospiterà Viadana Mentre per VL e Visti Sono due complicati testa-coda Per le reciproche aspirazioni di salvezza La VL e le 19 Sfida la Virtus Segafredo Bologna In una vitrifigoriana Che si annuncia sold out Alle 20 e 45 La Vise Pesero Ripiombati in zona play-out Ospiterà il Cesena Dominatrice Delle torneo Con i tifosi romagnoli Che hanno inoltrato Una richiesta di biglietti tripla Rispetto alle capacità Delle settore Ospiti delle Benelli Nella pallavolo Impegni in trasferti Invece per la Megabox Vallefoglia Che sabato all'ora 18 A Cremona Contro Casal Maggiore Potrebbe ottenere La certezza aritmetica Di partecipare Ai play-off E con quest'ultime Notizie di sport Termina qua La nostra edizione Di Rossini News Prima però di lasciarvi Le previsioni delle meteo Vi ricordo degli appuntamenti Di questa sera Perché si comincia subito Dopo questa edizione La prima del nostro telegiornale Con la natura Della cultura magazine Il magazine In approfondimento Su Pesaro 2024 Capitale latinale Della cultura Come vedete Tutti i lunedì Mercoledì E venerdì Un nuovo approfondimento Che riguarda appunto Quello che accade All'interno di questo Contenitore di Pesaro 2024 Questa sera Alle 20 Vedremo appunto Che cosa si riserverà Il magazine Nella tour Della cultura Ricordandovi anche Il riassunto Della settimana Che si tiene Il sabato E la domenica Negli orari Che vedete In grafica Mentre questa sera La nostra prima serata Sarà dedicata Alla prima edizione Del concorso lirico Internazionale Tebaldi Gigli Corelli Alle teatro Rossini Di Pesaro L'orario Alle ore 21 E 20 E vi ricordo L'appuntamento fisso Del nostro sabato mattina Con la rassegna stampa Dei quotidiani locali Buongiorno Rossini Saremo in diretta Alle ore 7 e 20 In diretta anche Su Facebook Sulla nostra app E sul nostro sito Domani mattina A farci compagnia Ci sarà Marco Cadedu Le repliche Le vedete in grafica 8 e 20 12 e 20 14 e 20 18 e 20 Ed è davvero tutti Vi ringrazio per essere stati Con noi Vi auguro un buon Proseguimento di serata E un buon fine settimana